non so se vuoi fare vaschetta non so se vuoi fare qualcosa qua ok dopo 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 cosa fa l'anzavecchia non so se vuoi fare non so se vuoi fare qui mi fai trovato? un medio, un medio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ok Ok Dobbiamo tornare giù Sì sì Abbastanza paura francamente Devo non succedere niente Amor Eh, non succedere niente E poi si riuscì al luogo in qualche modo a girarci però voglio riprovarlo tornate là con più rincorsa 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 con più rincorsa